Simone Garia Lanci si elabora per trovare il quadro definitivo, la nuova geografia post voto dei comuni della Toscana. Intanto c'è da dire che la stragrande maggioranza dei sindaci che ha chiesto di essere riconfermata ha avuto l'assenso subito, quindi una stabilità da questo punto di vista. Sì perché erano 189 i comuni dove siamo andati a votare, 114 i sindaci uscenti si sono ricandidati, 102 quelli che sono stati riconfermati, quindi voglio dire un dato davvero di forte continuità ma anche di apprezzamento della qualità della classe dirigente che hanno saputo esprimere le comunità in questi anni. Sono solo 7 i sindaci che si erano ricandidati e che non sono stati riletti. Grosse percentuali di voti disgiunti anche dalle europee rispetto alle amministrative. Sì, il dato che balza agli occhi è questo, cioè ieri mattina i sindaci, molti sindaci si sono svegliati con l'incubo di non riuscire a farcela e in diversi hanno messo dei posti in cui hanno messo già le mani avanti dicendo io ce l'ho messa tutta perché avevamo comuni, penso a Capannori in Lucchesia in cui la Lega era al 46%, tutta la Garfagnana, tutti i comuni lontani dall'area florentina la Lega era il primo partito. Poi c'è stato un ribaltamento del voto, cioè i cittadini hanno scelto i propri sindaci, i propri candidati, cioè coloro che avevano un radicamento maggiore sul territorio e infatti il dato emerge che è una sostanziale tenuta per quanto riguarda i sindaci e per quanto riguarda il centro-sinistra in Toscana.